Per la seconda volta in questa stagione il tempo supplementare è fatale all'Orlanina Basket che ieri sera è uscita sconfitta per 89-90 dalla sfida di alta classifica contro Bergamo. I cinque minuti supplementari sembrano quasi diventati un'abitudine per gli uomini di Coach Sodini arrivati al quarto supplementare giocato in sei gare. La gara, segnata dalla scarsa intensità difensiva dei padroni di casa, a vista Bergamo quasi sempre avanti nel punteggio, ancora sul più 9 a tre minuti dal termine della gara. Con un parziale di 9-0 i bianco-azzurri raggiungono la parità, siglata da una tripla di Lucarelli a 40 secondi dalla fine ma poi nel finale sprecano il possesso del possibile vantaggio. Nel supplementare l'Orlandina è ancora avanti sull'89 a 88 a 11 secondi dal termine dopo i due liberi di Capitan Bruttini ma nell'ultimo possesso Taylor subisce fallo e segna i due liberi che valgono la vittoria di Bergamo. Noi siamo stati assolutamente insufficienti difensivamente parlando per, secondo me, 37-38 minuti. In tutti i 45 credo che siamo stati avanti per due minuti in casa nostra. Quindi vorrei non ridurre al fatto se, 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 se. E questa qui è una cosa che deve essere chiara. Il secondo tempo di Legnano doveva essere fuoriero di un miglioramento nell'attenzione rispetto a dei dettagli che sono determinanti per il miglioramento dei giocatori, il miglioramento della squadra dal punto di vista delle performance e anche per la vittoria. Noi non siamo così disorganizzati da aver la palla in mano a 14 secondi dalla fine dei tempi regolamentari e aver chiamato un timeout per dire attacchiamo da una situazione in cui abbiamo preso la palla con il giocatore che doveva attaccare e non l'abbiamo fatto a 7 secondi dalla fine del supplementare. Noi abbiamo forzato 24 palle perse agli avversari e abbiamo perso. Vuol dire che qualcosa di male avremmo fatto. Dato che il prossimo impegno è un impegno di altissima qualità perché indipendentemente dal fatto che sia prima la Virtus Roma è stata costruita decisamente per essere la miglior squadra del girone bene, noi dobbiamo sapere che non possiamo assolutamente accettare di ripetere una prestazione come questa e non sto parlando di vincere o di perdere.